Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza. In occasione del 31esimo anniversario dell'approvazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, venerdì 20 novembre, così come sabato 21 e domenica 22, Palazzo Lascaris si è illuminato di blu. L'Assemblea regionale ha aderito così all'iniziativa promossa dal Comitato provinciale Unicef di Torino, che si propone di accendere una luce sui diritti fondamentali dell'infanzia e dell'adolescenza, tra i quali istruzione, salute, attività ricreative, socializzazione, affinché tornino a essere prioritari nella pratica quotidiana e riconquistino un ruolo di spicco nel dibattito politico. Quest'anno la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a causa del Covid-19 assume una valenza ancora più importante. Le problematiche che i bambini già vivevano quotidianamente oggi sono aggravati da questa terribile pandemia. I bambini sono al futuro di tutti noi e devono essere al centro delle scelte attuali, perché domani saranno gli uomini e le donne protagonisti della nostra società. L'attenzione ai loro diritti è fondamentale e giornate come questa sono vitali per mantenere alta l'attenzione su tutti i pericoli ai quali sono esposti in Italia e nel mondo. Questa giornata ci invita a tentare un bilancio dei traguardi raggiunti e delle mete su cui ancora è necessario cooperare. Mai come in questo momento storico è fondamentale porre al centro dell'attenzione ad ogni livello la condizione dei bambini e dei ragazzi ed in particolar modo di quelli maggiormente a rischio. Facciamolo con impegno e responsabilità, perché la miglior tutela dell'infanzia si può attuare solo attraverso il dialogo costante, diventando testimoni e promotori di una cultura consapevole e attenta. Negli ultimi 30 anni il tasso globale di mortalità tra i bambini sotto i 5 anni è diminuito del 60% e la dispersione scolastica è calata dal 18 all'8%. Tuttavia sono ancora quasi 20 milioni i bambini che rischiano di ammalarsi per carenza di vaccinazioni. Un quarto della popolazione mondiale sotto i 18 anni rischia di rimanere senza acqua entro il 2040. A ciò si aggiungono i rischi legati alla diffusione del coronavirus sia a livello di malattia in sé sia per gli effetti indiretti. Preoccupano in particolare la riduzione della socialità e il rischio di dispersione scolastica.